Buongiorno a tutti, eccoci alla seconda puntata legata al passaggio parametri in C-Sharp lato console. Siamo alla video numero 26 legato invece al nostro progetto di massima per esplorare C-Sharp lato console. Quest'oggi vorrei parlare ancora di parametri. Qui dicevo, seconda lezione, vedete qua nel space siamo sui parametri, sui parametri 2. Oggi vogliamo parlare del passaggio parametri per riferimento. Quindi ci rifacciamo a quanto detto dalla tavoletta grafica la volta precedente, abbiamo analizzato praticamente il passaggio parametri per valore e invece oggi concentreremo la nostra attenzione, quindi sulla lezione 2 cambiamo il colore della penna, sul passaggio parametri per riferimento. Questa è la lezione di oggi, quindi questa era la numero 25, questa sarà la lezione numero 26. Poi probabilmente nella 27 ci parleremo praticamente anche dei parametri out, o magari facciamo nel frattempo qualche esercizio, vediamo un po'. Allora, intanto diciamoci le cose principali per quanto riguarda il passaggio per riferimento rispetto al valore. Mentre abbiamo detto che il passaggio per valore non andava a modificare appunto la variabile del metodo invocante, il passaggio per riferimento, quindi lo scriveremo qua sotto, passaggio per riferimento, e lo indicheremo con la parola magica reference, ok, cosa fa? va a modificare il valore, il contenuto meglio, se no magari ci confondiamo, il contenuto, contenuto della variabile del metodo invocante, andiamo a chiarire questo concetto che sembra difficilissimo da capire, in realtà è abbastanza banale, ricordando che per valore noi creavamo un duplicato della variabile di partenza, questa è la variabile del metodo invocante, e questa invece è la variabile del metodo invocato, ok, quello che succede invece per quanto riguarda il passaggio per riferimento è che la situazione che ho nella RAM della variabile del metodo invocante, invocante, che si riferisce a questa etichetta, a questa porzione della RAM che contiene il valore, supponiamo 3, succederà che lo stesso riferimento, ovvero lo stesso indirizzo di memoria, sarà quello a cui si riferisce il metodo invocato, evidentemente se entrambi si riferiscono alla stessa cella di memoria, tutte le variazioni che farà il metodo invocato si ripercuoteranno sul valore della variabile del metodo invocante, quindi se invocato succede che da 3 lo fa diventare 30, allora anche invocante troverà questa variazione nella mia variabile, questo è in soldoni quello che succede praticamente in questa situazione, ma per provarlo ancora una volta ci rivolgiamo al nostro G-Sharp, dove iniziamo a capire un attimo come può funzionare indicando una variabile, supponiamo, chiamiamola valore, ok, che parte da un valore che varia il 30, e io cosa faccio? Facciamo in maniera molto molto semplice, stampa video il suo valore, quindi un console.bratline dove indichiamo il valore della variabile prima di invocare il metodo, metodo E, quindi ci mettiamo un segnaposto 0, virgolette e virgola, si chiama valore la variabile, tasto tab, chiuso a tonda, punto e virgola, e qua ci mettiamo anche un console.readline, come sempre per non chiudere il programma. Ovviamente questo è banalissimo, questo programma, cosa mi darà a video? Il valore della variabile prima di invocare il metodo E, e ci aspettiamo di leggere 30, facciamo F5 per riprova, ok, E30, perfetto. Ora supponiamo di crearci un nostro metodo, uno static, lo chiamiamo void, non restituisce niente, lo chiamiamo ad esempio modifica, modifica underscore valore, come per le variabili, vi ricordo anche per i metodi, dobbiamo usare, se usiamo più parole dobbiamo unirle, in modo tale che non ci siano degli spazi, ok, questo valore, intanto lo chiudo, vado a capo e ci scriverò il corpo, ovviamente dovrà ricevere un passaggio parametri per riferimento, passaggio per riferimento, la differenza rispetto a prima, se avessimo voluto fare un passaggio per valore meglio, cosa dovremmo scrivere? cosa avremmo scritto? int numero, ok, e poi qua faccio la modifica di numero, cioè faccio numero, numero uguale, numero per, facciamo più, più 100, ok, punto e virgola. Cosa succedeva in questo caso? Quando io andavo a invocare il metodo, facciamo tutti i passaggi così forse è più chiaro, invoco il metodo modifica valore, gli passo, cosa gli passo? Numero, quindi gli passo valore che è il nome della variabile nel main. Andiamo a vedere che succede dopo l'invocazione del metodo, ctrl c, ctrl v, il valore della variabile dopo aver invocato il metodo è valore. Cosa mi aspetto che succeda? Posso anche fare così, facciamo, scusate, sì, ho fatto un ctrl c, quindi ancora un ctrl v, il valore della variabile dentro il metodo, dentro il metodo è, non esiste più valore, ma ci sarà numero, ok? Quindi cosa mi aspetto di trovare? Quindi la prima scritta è riferita a questo write line e quindi il valore prima di entrare nel metodo, quindi mi aspetto di leggere 30. Poi invoco modifica valore, modifica valore cosa farà? Prenderà il numero, ne aggiunge 100 e me lo stampa video, quindi mi aspetto la seconda scritta a 130. Poi cosa è? Fa, esegui ancora il console write line della variabile fuori dal metodo, valore, mi aspetto ancora, siccome sto passando per valore, di vedere ancora 30. Quindi 30, 130 e 30. Andiamo con l'f5 e vediamo che succede. 30, 130 e 30. Ok, sta rispettando quello che abbiamo detto. Però questo è il passaggio per valore, questo in teoria dovrebbe essere chiaro dalla lezione precedente, dalla 25. Cosa facciamo invece in questa lezione? Beh, utilizziamo il passaggio per riferimento. Il passaggio per riferimento, abbiamo detto, ci vuole, diciamo, sfrutta una parola magica che si chiama ref, che vedete viene messa in blu perché è una parola chiave per quanto riguarda il C-Sharp. Reference è riferita a, ok? Attenzione, ci sorge anche un altro errore. Come aggiunto ref qua mi dice, ma modifica valore, guarda che di cosa ha bisogno. Ci sto andando sopra col mouse, vedete che c'è scritto qua tra le parentesi tonde, come sposta il mouse lo sposta, ma c'è scritto, vedete, ref int numero. Vuol dire che qua, prima di valore, devo ricordarmi che è passato per riferimento. Cosa che prima non facevo. Non modifico altro, ho solo aggiunto ref qua e ref qua. Quindi vediamo cosa cambia radicalmente nell'esecuzione. Andiamo con F5, vedete che succede? Quindi il valore della variabile prima di evocare il metodo vale 30, perfetto. Poi cosa faccio? Dentro il metodo 130, ok? Quando esco dal metodo, anche la variabile del main ha il valore 130, cioè la modifica che ho fatto dentro il metodo è andata direttamente a inficiare il valore della variabile anche fuori dal metodo invocante. Cioè sta inficiando il metodo, il valore della variabile nel metodo invocante. Ok? Potete riprovare qua, cancellate ref, cancellate ref, lo mandate in esecuzione, vi accorgete che ecco, il passaggio per valore, quindi senza ref, non va a modificare il valore della variabile nel main. Se invece aggiungo ref, l'azione che ha il metodo, quindi questo incrementare di 100, si ripercuota direttamente sulla variabile d. Detto questo, io direi cancelliamo tutto, facciamo un esercizio e cerchiamo di capire a cosa serve questa situazione. Quindi, come sempre ho sbagliato, quindi commentiamolo che magari ci può servire, commentiamo tutto che ci può servire e andiamo a dichiararci un altro esercizietto. Quindi lo metto qua, io voglio ad esempio leggere 5 valori dentro un metodo e indicare la somma dentro il metodo. Quindi vuol dire che, traduciamolo un secondo, punto A, io voglio un metodo che legga un valore da tastiera e incrementi la somma, quindi questa somma dentro il metodo. Nel caso invece del punto B, io voglio che dal main venga indicato il valore della somma complessiva. Quindi iniziamo a capire, ho bisogno di un metodo, questo metodo deve lavorare, deve leggere un valore e modificare il valore della somma. Quindi somma chi è? Beh, somma sicuramente è una variabile del main, quindi int somma uguale 0 lo vado a dichiarare nel main. Per comodità mi dichiaro anche una variabile i che poi magari utilizzerò nel ciclo for o se volete la posso dichiarare, cancelliamola, dichiariamo nel for sempre. Allora, iniziamo a capire cosa deve fare questo metodo. Il metodo abbiamo detto deve leggere un valore, quindi static restituisce qualcosa, non è indicato, quindi non restituisce niente, void, perfetto. Cosa fa? Beh, legge, leggi, leggi valore. Ok? Non so che parametri ho, lo lascio chiuso. Apro e chiudo. Cerchiamo di capire quale sarà l'azione. Ma sicuramente l'azione di questo metodo sarà quello, console.writeline, di chiedere qualcosa all'utente. Quindi inserisci un valore da sommare. Ok? Chiusa tonda, punto e virgola. Cosa ne faccio di questo valore che leggo? Posso mettere qua int valore, non è obbligatorio ma supponiamo di farlo. Int valore cosa prende? Prende il convert to int 32 del mio console. Oggi non mi scopo a scrivere console.readline aperta chiusa, chiusa tonda. Bene, io ho letto un valore. Questo valore cosa deve fare? Cosa ne faccio di questo valore? Devo incrementare la somma. Ma la somma dov'è? La somma è qua dentro. Quindi mi aspetto di avere in ingresso sicuramente un intero che sarà la mia somma. E cosa faccio a questa somma? Faccio un somma uguale, somma più il numero che si chiama valore che ho appena letto. Perfetto. Però mi devo anche chiedere, ma l'azione di sommare un valore deve poi essere vista nel main? Beh, assolutamente sì. E allora io non posso passare somma normalmente per valore, ma dovrò passarlo per riferimento. Attenzione a questo punto che è fondamentale. L'azione del numero che ho letto deve incrementare somma. Ma quale somma? Quella che gli passo come parametro. Questa variazione la voglio anche quando esco dal metodo leggi? Certo che sì. Quindi sarà per forza per riferimento. Attenzione sta restituendo qualcosa a questo metodo? No. Restituisce void. Non c'è un rettardo. Sono tutte domande che mi devo chiedere ogni volta che io applico praticamente i miei metodi. Bene. Cosa devo fare in questo caso? Beh, sicuramente io dovrò applicare e invocare leggi valore. Aperta tonda. Cosa gli devo passare? Me lo ricorda C sharp. Sicuramente un ref. Un reference. Che cosa? Di somma. O comunque la variabile su cui voglio fare la somma. Che sarà somma. Ok? Attenzione. Sembra che ci sia un errore. Che succede qua tra somma e somma? Beh, c'è somma che è quello che io ho usato qua. E c'è somma che è quello che io ho dichiarato nel mail. Ok, cerchiamo allora di non rovinarci la vita. Facciamo che questo lo chiamiamo totale. E quindi dentro il metodo leggi valore dovrò usare sempre totale. Totale. Perfetto. Ora posso richiamare somma senza ambiguità? Sì, somma ce n'è solo uno. Ah, perfetto. Ed è un reference sì. Punto e virgola. Quindi questo metodo cosa fa? Legge il valore qua dentro. Proviamo a vedere se funziona in un caso e poi applichiamo l'esercizio perché l'esercizio vuol dire che leggiamo 5 valori. Quindi andiamo a scriverci qua un console.brightline e scriviamo la somma dei valori, così ci serve per dopo. La somma dei valori inseriti è segna posto zero, virgola, somma, chiusa a tonda, appunto e virgola e poi un console.readline come sempre per evitare che il programma si... Bene, mi sta dando degli errori, no direi di no. Cosa fa? In questo caso legge valore, passando somma per riferimento, quando usciamo da somma io qua in somma mi aspetto di vedere esattamente il numero che io ho letto. Quindi F5, inserisci un valore da sommare 300, la somma dei valori inseriti è 300, certo ne ho inserito solo 1, però il metodo sta funzionando. Quello che io ho letto dentro il metodo automaticamente me lo ritrovo fuori nella variabile somma e quindi sembra che stia funzionando. Non mi resta adesso che completare l'esercizio che mi viene chiesto, leggere 5 valori dentro il metodo, ma cosa faccio? Io rifaccio, non cambio il metodo, invoco 5 volte lo stesso metodo, ovvero faccio un bel for aperta tonda, int i uguale 0, la sto dichiarando dentro il for la i quindi esisterà solo qua dentro, i minore di 5, punte virgola, si incrementa un passo alla volta, i più più, vado a capo, apro la graffa, cosa devo ripetere per 5 volte? Beh, semplicemente l'invocazione del mio metodo, che man mano accumulerà il valore sul somma. Alla fine della fiera io qua troverò la somma dei 5 numeri inseriti. Andiamo subito a vedere se funziona, tasto F5, inserisci un valore da sommare, mettiamo 3 per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, la somma dei valori inseriti è 15, ok? È vero, 5 per 3 volte 3 che ho inserito, quindi 5 volte 3, mi sto incasinando, ci dà un risultato pari a 15. Cosa sto facendo? Sto semplicemente applicando per 5 volte l'invocazione di un metodo, questo metodo attraverso il parametro passato per riferimento, che si chiama somma, andrà ad aggiornare la somma che è presente come variabile del metodo. Quindi sto sfruttando appieno la potenzialità del passaggio per riferimento. E con questo abbiamo concluso la differenza tra passaggio per valore e per riferimento, lo vedremo applicato negli esercizi, spero che sia chiaro perché ci servirà veramente per risolvere le tante. Ok, per questa lezione numero 26 diciamo che è tutto, alla prossima, ciao ciao!